Mamma! Il capriolo era caduto nel canale della centrale idroelettrica ed era rimasto bloccato contro la griglia di sbarramento del corso d'acqua, incapace di muoversi. Ad accorgersi dell'incidente, l'autista di una betoniera, impegnato nei lavori per la pedemontana. L'uomo ha così chiamato i soccorsi, ma intanto si è prodigato a recuperare l'animale dalle acque. Quando una squadra dei pompieri è giunta sul posto, poco dopo le 8, il capriolo si trovava già fuori dal canale. I vigili del fuoco hanno asciugato l'animale e gli hanno prestato le prime cure. Poi, d'accordo con la polizia provinciale, il capriolo è stato portato nella zona di Valrovina. Da lì, di nuovo libero, è tornato a correre tra i boschi.